Anche Commerce Bank paga pegno alla crisi dell'eurozona. Il secondo istituto di credito tedesco annuncia l'intenzione di tagliare fino a 6.000 posti di lavoro entro il 2016. Cifra che potrebbe scendere a 4.000 dipenderà dall'esito dei negoziati con i sindacati in avvio a febbraio. Ma i propositi sono chiari, ridurre del 12% una forza lavoro che oggi conta 56.000 dipendenti. Una mossa che fa parte del piano dell'azienda per ridare ossigeno ad un settore retail sofferente e sarà accompagnata dall'allungamento dell'orario e da tagli nei salari. Grazie a tutti.